Musica Benvenuti in questa nuova rubrica dedicata agli artisti emergenti, uno spazio che abbiamo deciso di dedicare appunto a questi nuovi nomi dell'arte per poter dar loro la possibilità di presentarsi, presentarsi loro come artisti e presentare ovviamente anche le loro opere. All'interno del nostro sito è possibile trovare la sezione artisti emergenti ed è facilissimo accedere a questo progetto, basta compilare il format, inviare le immagini, decidere ovviamente l'abbonamento da sottoscrivere e verranno quindi pubblicate le opere e verranno pubblicate anche delle videointerviste, videointerviste di pochi minuti perché appunto caricate all'interno del nostro sito, però sarete anche chiamati qui nei nostri spazi televisivi, come ad esempio oggi abbiamo chiamato un artista che è già presente all'interno del sito e che già avete conosciuto attraverso un'intervista molto particolare. Abbiamo qui oggi Marco Abisso, ciao Marco e grazie di essere tornato nei nostri studi. Un artista molto molto interessante, hai già ricevuto parecchi like e parecchi complimenti esterni anche al sito e oggi nello specifico riproporrai una tua presentazione, quindi un reading di un tuo testo. Quindi quando vuoi noi ti ascoltiamo. Sì, nella fattispecie mi metterò a fare un altro reading come l'ultima volta, però in questo caso un po' più dettagliato per quanto riguarda questa serie di opere che ho fatto, l'altra volta era un discorso più in generale, invece questa volta parliamo solamente di questo tipo di opere, di serie che ho fatto. Molto interessante, complimenti tra l'altro. Grazie, se posso incomincio. La serie si chiama Guano Paintings. Nella vita di tutti i giorni capita spesso di trovarsi, senza volerlo, a diretto confronto visivo con scritte e segni, in più delle volte apposti per mezzo di bombolette e spray sui muri delle nostre città. Tali segni sono facilmente riconducibili al movimento dei graffiti, il quale venendo additato dall'amministrazione degli Stati in quanto fenomeno di degrado, si è di fatto considerato al pari di un escremento, che sporca indiscriminatamente le superfici imbrattandole di colore o altro. La serie di opere Guano Paintings, From a Vandal Bird, si fonda appunto sul paragone ironico tra la pittura spray dei graffiti contemporanei e di il guano, ovvero le feci degli uccelli. L'idea si articola sul trattato di McLuhan, Understanding Media, secondo il quale sarebbe il medium, ovvero il mezzo impiegato nella comunicazione, che determinerebbe i caratteri strutturali della stessa, producendo nella diffusione e nell'immaginario collettivo, indipendentemente dai contenuti dell'informazione di volta in volta veicolata. Da qui ne deriva la celebre sintesi, The Media is the Message. È così che in riferimento all'utilizzo dei media impiegati dal vandalismo di città, come bombole spray, inchiostro e acido fluoridrico, viene posta la metafora del guano di vandalo, poiché tali suppellettili siano assunte come il messaggio fondamentale dell'intera serie. Il guano, che in natura è anche un potente concime, potrebbe in questo caso fungere da fertilizzante verso la sterile convinzione di alcuni che tutto debba essere pulito e scevro di segni vitali a tutti i costi. Ma questa è un'altra storia. Oltre a voler ridare un nobile valore all'atto liberatorio di dipingere, provo a evocare i graffiti senza però mostrarne la forma propria e facendone così un uso subliminale, mirato a imporsi contro una morale estetica ormai obsoleta che potremmo definire della grande bellezza, concetto il quale, restando funzionale a noi umani, di fatto non esiste. Come si può infatti considerare in quanto esteticamente bello qualcosa di inautentico, come ad esempio quegli affreschi a chiappamosche virtuosamente eseguiti da parte di artisti educati su dei muri legalizzati? Si dovrà per forza essere non addetti ai lavori e quindi non destinati al giudizio di cose che la propria morale non sia ancora in grado di comprendere e di infine accettare. E per contro, chi ci dice che una brutta scritta fatta sul muro da una mano di bambino ancora inesperto non possa essere invece un anelito di speranza per le generazioni a venire? Forse si dovrebbe provare a non mettere sempre e in ogni caso il regno della legge davanti ad ogni causa che l'umana condizione si trovi ad affrontare. Dato che una disputa di carattere economico non servirà di certo, a risolvere un problema pressoché culturale. Il non problema di stabilire se tali scritte possano o meno essere accettate dalla cultura ufficiale in quanto arte oppure sporcizia si snoda sulla vera questione se sia realmente un problema di danneggiamento o se sia il solito zotico attaccamento alla tradizione che impedisce a nuovi valori, morali, estetici e culturali di dare un taglionetto con i dogmi del passato. Restando divise le opinioni in merito, secondo opposte interpretazioni culturali, ci si preoccupa più dei fini estetici che del danno in sé che un qualsiasi scarabocchio possa di fatto apportare ai muri della collettività. Questo ciclo di opere non tratta di street art, concetto secondo il quale si cerca di identificare un determinato linguaggio e attraverso il quale, invece, si finisce inevitabilmente per creare una netta divisione culturale di generi e intenti. Nel tentativo di tracciare una possibile connessione con le incisioni rupestri del paleolitico e cercando di comprendere il misterioso istinto che ha portato l'uomo a realizzare tali opere attraverso i secoli, questa serie si fa carico di unire, elevando irriverentemente al contenitore dell'arte contemporanea quel fenomeno culturale trasversale e ormai globalizzato che si identifica autenticamente con il nome di graffiti. Provate ad immaginare un uccello vandalo che sa agire in volo notturno per benedire di guano spray le private superfici dei dormienti cittadini. Dormite sonni tranquilli, gente, e sentitevi benvenuti nella sacra era della tirannia dell'arte nella quale ogni superficie è scrivibile in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia legale o meno scriverci sopra. Grazie. Grazie a te, originalissimo, come hai scritto, complimenti. Passerei quindi ora a parlare delle opere vere e proprie. Certo. Quindi partiamo da questa valigia che subito ha incuriosito tutti noi non appena è entrata nei nostri studi. Da dove nasce l'idea? Sì, questa in realtà è proprio il primo pezzo, la prima opera che ha dato l'idea anche a questa serie, che ha acceso questa serie. Non è nient'altro che una valigia che ha la sua storia, aveva una storia prima che io la trovassi, poi quando l'ho trovata, ha incominciato ad avere la mia storia, cioè appartenere comunque a me. Quindi io la usavo per fare determinate cose, ma questa non è una cosa importante. La cosa importante è che quando una persona, un artista in questo caso, mostra ad un pubblico un'opera d'arte che è un oggetto, sappiamo tutti che cosa significa questa cosa. È sempre quel medesimo concetto che proviene da Marcel Duchamp, quando portando un orinatoio in un museo per una mostra, di fatto decontestualizzò l'arte. In questo caso non è tanto importante il fatto della valigia in sé, cioè la valigia in sé non è tanto importante, quanto più importante quello che gli è successo, per causa mia ovviamente, è successo che è stata imbrattata. Queste cose accadono, solo che se accadono sulle proprietà altrui ci sono dei problemi, quando la proprietà è tua magari può diventare anche un'opera d'arte. Quindi non è tanto importante la valigia in sé, quanto appunto anche questa valigia fa parte di questa serie che si chiama Guano Paintings, From a Vandal Bird, ovvero da un uccello vandalo, perché mi immagino in questa dimensione simbolica, quasi come un uccello notturno, che possa essere anche un simbolo di libertà. Che pensa a quelle ultime frasi che leggevi. Esatto. E che, insomma, passando, scacazza di colore e quant'altro si usi per imbrattare. L'importante è l'imbratto. Esatto. Non è tanto l'oggetto in sé. Ovviamente l'oggetto è stato imbrattato, quindi è un feticio. Diciamo che l'oggetto è quell'elemento che permette di rendere concreta la tua idea. È un semplice supporto, come lo sono i quadri. E parlando appunto di queste opere, mi raccontavi prima di questo dittico, che sembrerebbe un monocromo a prima vista, però non è così in realtà. Infatti si chiama così, si chiama quasi monocromo, almost monocromo. Perché appunto, io lavorando su questa sovrapposizione di colori e di materia in sé, perché sì, è colore che si spruzza tramite la bomboletta, però in realtà poi sono solo atomi che si aggiungono agli atomi della tela e del telaio. Siamo tutti quanti immersi in un mondo di atomi, noi stessi siamo fatti di atomi. E allora mi piaceva appunto che comunque, avendo usato lo stesso medesimo materiale, a seconda della densità che è stata spruzzata, ne uscissero fuori diverse differenze cromatiche. Quindi contrasti di luce. Contrasti di luce, ovviamente sono cose che magari vanno viste da vicino, dal vero, per comprendere un attimino la vera natura. Sì, abbiamo già visto come cambia la visione dell'opera dalla luce naturale a quella ovviamente dello studio. Qui vengono esaltati molto di più questi contrasti, queste colature, insomma ovviamente va visionata dal vivo l'opera, come tutte le opere. E anche qui tu laceri la tela, insomma la base del tuo lavoro è sempre la medesima. Sì, nel senso, la tela è sicuramente, dal mio punto di vista, una cosa vicino quasi alla pelle. Tanto che il telaio potrebbe essere inteso come delle ossa. E quindi, insomma, nella vita capita di sbucciarsi la pelle. E sono un po' come me, insomma, come tutte le persone. Come tutti gli esseri umani, insomma. Ci consumiamo col tempo e mi piace che le cose siano consumate. Bene, è una bellissima metafora direi. Grazie. E abbiamo ancora poco tempo, quindi se volessi illustrarci anche quest'opera di dimensioni maggiori, così a casa riescono ad avere un'idea più completa di quello che è il tuo lavoro. Certo, quest'opera non rappresenta nient'altro che appunto il materiale con cui è stata fatta. Non tanto il supporto, come in precedenza per la valigia. Il materiale con cui è stata fatta sono appunto le suppellette con cui chi fa graffiti utilizza appunto per produrli. Avremmo visto tutti sui muri delle nostre città queste scritte incomprensibili, fatte ad argento e nero, o comunque questi disegni quasi infantili, tracciati da mano preoccupata, perché molte volte illegali, quindi non tanto precisi, non tanto facili. Ecco io cerco appunto di fare la stessa cosa, però molte volte quando si fa qualcosa di illegale si trova anche un modo di operare che è puramente di questo modo di fare e che non può appartenere ad altra pittura se non a questo. Ovviamente utilizzando poi delle bombolette spray per produrre questo tipo di opere ci si affida un po' al caso, come quando si è in strada con la preoccupazione di essere beccati. E allora io cerco di fare la cosa nel minor tempo possibile. Se poi devo descrivere come ho fatto quest'opera, perché il significato non lo so spiegare, al di fuori del materiale che ho utilizzato, quindi il media con il quale io cerco di parlare. L'importante per me è la bomboletta, che è quasi come un dio da un certo punto di vista, perché mi permette in quanto mezzo tecnologico, ma non troppo, ma lo è comunque, di avere delle possibilità in più rispetto a me. Però è come se avessi proprio un organo in più che spruzza. Che ti permette di spruzzare colore. E quindi questa cosa è stata fatta proprio imbrattando questa tela, abbastanza casualmente, ma con anche un po' di virtù, diciamo. Ma non è importante. Perfetto. Allora io ti ringrazio Marco, il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo appunto che tutti gli artisti emergenti sono visibili all'interno del nostro sito internet. Per qualsiasi cosa contattateci via mail o appunto attraverso il numero di telefono che trovate nella sezione appunto degli artisti emergenti. E vi saluto, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.